Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta il Consiglio regionale della Toscana approva all'unanimità la proposta di legge che adegua il profilo contrattuale del personale degli organi politici di Giunta e Consiglio. Un tema tecnico che è stato illustrato in aula da Giacomo Bugliani, che autorizza le regioni ad utilizzare un meccanismo di contribuzione non più legato al contratto funzioni antilocali, ma a quanto già previsto per il personale a supporto dei ministeri. Con voto unanime il Consiglio regionale ha deciso di abrogare la legge 2 del 23 consentendo così di superare una questione che aveva animato non poco il dibattito politico e soprattutto una questione che coinvolgeva il personale della Regione Toscana. Con la legge che il Consiglio regionale ha approvato, anche a seguito del decreto legge 44 del 23, di pochi giorni fa, si è arrivati quindi a stabilire che il trattamento economico accessorio del personale, degli staff, degli organi politici, del Consiglio regionale e della Giunta possa gravare direttamente sul bilancio regionale e non più sul fondo del salario accessorio del personale della Regione Toscana. Questo ovviamente è un principio che opererà per il futuro, mentre per il passato, in particolar modo per l'anno 2022, si è stabilito di poter procedere, grazie a questa legge, ad un incremento del fondo del salario accessorio pari alle risorse necessarie per coprire il trattamento economico accessorio del personale degli staff politici. Si tratta quindi di un atto importante che permette di superare quanto era stato stabilito dalla sezione regionale della Corte dei Conti, che aveva sospeso il giudizio di parifica lo scorso anno relativamente al rendiconto del 2021. Lo si era già superato con la legge regionale 2 del 23, che tuttavia aveva generato non poca discussione tra il personale della Regione. Oggi, abrogando quella legge, si mettono da parte anche tutte le questioni e le controversie che hanno caratterizzato il trattamento economico del personale degli staff e degli organi politici. Un passo in avanti importante che permette però alla Regione Toscana di allinearsi anche alle richieste che sono state avanzate dalla Corte dei Conti. Una decisione unanime che tiene fede a un impegno, quello di tutto il Consiglio regionale della Toscana di risolvere una questione relativa al personale, non soltanto quello a tempo determinato delle strutture politiche ma da una risposta nel contempo a tutto il personale della Regione Toscana che costantemente e quotidianamente lavora in tutte le strutture della Regione mettendo in sicurezza delle risorse per i fondi accessori, delle stanze portate avanti dalle organizzazioni sindacali le quali noi abbiamo speso fin dall'inizio il nostro impegno politico come Italia Viva e come gruppo di maggioranza per fare in modo che tutto il personale della Regione Toscana abbia il livello di retribuzione che le compete rispetto alle aspettative che giustamente un dipendente aveva acquisito nel corso del tempo e nel contempo abbiamo dotato le strutture della politica di una dotazione così come è prevista da una legge nazionale in linea perfetta in condivisione fra tutte le forze politiche come quello che corretto che sia. Sì, sicuramente l'approvazione di questa legge che di fatto va a sanare una situazione che era derivata da delle censure puntuali che aveva rilevato nei confronti di Regione Toscana la Corte dei Conti va a sanare quella che era di fatto una disparità di trattamento che vedeva contrapposti da un lato il personale di Regione Toscana dall'altro lo staff dei gruppi politici una questione che ha naturalmente una caratterizzazione decennale e che è stata risolta solamente qualche settimana fa da parte del governo tutto questo aveva generato un contenzioso un contenzioso che naturalmente aveva coinvolto la Regione Toscana che nelle more di questa sanatoria perché se così vogliamo definirla aveva appunto determinato una forte contrapposizione naturalmente anche con una forte contestazione da parte del mondo sindacale c'è da dire una cosa questa diciamo legge nasce sostanzialmente come una marcia indietro che si fa tenuto conto della normativa sopravvenuta a livello nazionale ciò non toglie che il metodo con il quale siamo arrivati diciamo a fare il precedente testo di legge al licenziale il precedente testo di legge a gennaio è stato un metodo che ha visto poca concertazione soprattutto nel confronto con il personale sia delle strutture sia dei gruppi politici ecco io credo che per non dare l'idea che come dire si arrivi a fare delle norme che poi in un certo senso mettono delle toppe rispetto a situazioni che andavano forse gestite con una maggiore cautela ecco io credo che questo deve insegnare soprattutto a chi ha responsabilità di governo che talvolta il metodo può naturalmente diciamo fare la differenza ecco questo io credo che sia una censura che mi sento di fare la situazione l'abbiamo risolta ma non cambia il modo in cui è stata gestita si è svolta nella sala del gonfalone a Palazzo del Pegaso l'incontro pieno di emozioni tra il consiglio regionale e l'attivista georgiana Nana Malashkia l'attivista georgiana si è resa protagonista lo scorso marzo di un'azione di protesta contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera e le immagini che la ritraggono farsi scudo con la bandiera dell'Europa contro gli idranti delle forze dell'ordine l'hanno reso un'icona di libertà una parte della Georgia vorrebbe far parte dell'Unione Europea e l'Italia e da oggi la Toscana ne sostengono il percorso europeo e attendono i necessari passi da parte della Commissione Europea durante l'incontro nella sede del Consiglio è stata consegnata una targa all'attivista che ha ringraziato la Toscana e ribadito come nessuna minaccia esterna può costringere i georgiani a rifiutarsi di unirsi alla famiglia europea una battaglia per i diritti una battaglia per la democrazia una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea mi sono emozionato emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini insieme a tanti altri ragazzi insieme a tanti altri ragazzi la Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza la speranza di poter vivere in un mondo migliore un mondo con più diritti con più opportunità in un mondo libero la libertà è come un fiore va innaffiato giorno dopo giorno e noi anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà Il Consiglio regionale attraverso la Commissione Europa l'Ufficio di Presidenza ha voluto svolgere questa iniziativa che è un momento di incontro è un momento di ascolto è un momento che serve anche per raccogliere degli elementi di valutazione poi sappiamo perfettamente che i percorsi e le dinamiche dei paesi appartengono alle comunità e soprattutto a chi ha il compito di guidare le nazioni e ovviamente anche le scelte che devono essere intraprese e quindi questo per noi rappresenta il modo per, mi verrebbe da dire, semplicemente dire alla signora Nana che abbiamo visto quello che è accaduto in quella piazza che abbiamo visto il gesto che ha compiuto e che non ne siamo restati indifferenti spesso e volentieri, no? si utilizza quella frase di odiare l'indifferenza noi non vogliamo odiare nessuno noi vogliamo però ovviamente evidenziare che ci sono dei valori e ci sono ovviamente dei principi che devono essere rispettati ovunque nel rispetto, scusate il visticcio di parole ovviamente delle libere espressioni e delle libere determinazioni dei popoli e dei governi che li guidano come Consiglio regionale come Commissione Europa come ufficio di presidenza abbiamo voluto dare questo segnale ovvero che siamo molto attenti alle cose che accadono in Europa perché ne facciamo parte perché vediamo nell'Europa un'opportunità ma siamo molto attenti e ci piacerebbe esserlo ancora di più nei tempi che verranno anche a quello che è all'esterno dell'Europa perché mi pare che quel gesto richiami proprio quella richiesta di attenzione in maniera molto semplice però credo che il Consiglio regionale abbia anche questo compito e noi cerchiamo nel nostro piccolo di portarlo avanti Allora stiamo come popolo giorgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti nella nostra lotta come avevo detto anche nel mio discorso questa nostra lotta è molto difficile del popolo giorgiano perché come sappiamo anche adesso nel 2023 solo 40 chilometri a distanza dalla capitale giorgiana Tbilisi c'è la presenza dei militari russi e quindi noi combattiamo per questi diritti per avvicinarci all'Europa in queste condizioni molto difficili non è solo la nostra scelta come popolo ma proprio l'idea storica nostra della Georgia come paese di integrarci nell'Unione Europea e nonostante la difficoltà che abbiamo nonostante gli ostacoli che continuano a metterci la Russia continuiamo con tutta la nostra forza che abbiamo combattere e cercare in ogni modo integrarci nell'Unione Europea e penso che il desiderio così grande volontà del popolo giorgiano di integrarsi nell'Unione Europea merita l'accoglienza perché durante tutti questi anni ha combattuto sempre e capisce benissimo si rende conto della situazione difficoltosa ma nonostante questo tutte le minacce da parte della Russia continua e cerca di arrivare al suo obiettivo salone del libro di Torino la Toscana presente quest'anno con un proprio stand per la 35esima edizione per la promozione della lettura il consiglio regionale ha deciso di investire sulla lettura e sulla cultura con un sostegno di tante esperienze di qualità nel territorio per la crescita di ragazze e ragazzi e per tre giorni nello stand di Regione Toscana si parlerà di esperienze territorio sostenibilità in Toscana con il tema della lettura e della promozione del libro investire in cultura investire in lettura vuol dire investire in libertà siamo venuti al salone del libro per presentare la nostra proposta di legge sulla promozione alla lettura chiediamo al Parlamento che approvi la nostra legge per consentire alle bambine e bambini alle ragazze e ragazzi di poter avere uno spazio durante la loro giornata di studio in aula per poter scegliere un libro e leggere penso che tutto questo renda le persone più libere più pronte a vivere il mondo e noi abbiamo fatto la nostra parte abbiamo messo gli avanzi derivanti dalla riduzione dei costi della politica a disposizione dei comuni per sostenere iniziative rivolte alla lettura un successo enorme più di 80 comuni della nostra regione hanno scelto di investire in questa direzione penso che ogni investimento culturale ogni investimento nella lettura come la bellezza di questo salone del libro è davvero una grande soddisfazione essere qui al salone del libro con la collana dell'assemblea dell'edizione dell'assemblea ma soprattutto con un libro che parla dei sentimenti delle sensazioni dei ragazzi nel tempo del coronavirus in cui i ragazzi della scuola di Pelago e di Rufina si raccontano e scrivono pagine e poesie su quel periodo difficile per tutti noi è una grande soddisfazione per noi che veniamo da questo territorio e è una bella occasione essere qua abbiamo promosso una legge sulla lettura libera nelle scuole l'abbiamo promossa e incardinata presso il Parlamento presso la Camera speriamo adesso che i parlamentari facciano la loro parte è una legge che vorrebbe introdurre ogni giorno nelle scuole in tutte le scuole del paese un tempo per la lettura libera perché i ragazzi collegano la lettura soltanto all'adempimento scolastico questo come sappiamo non sempre innesta un piacere e fa crescere una passione vogliamo che la lettura abbia uno spazio tutto suo in cui loro possano recuperare un rapporto più piacevole più di svago con la lettura e che li possa davvero appassionare poi da grandi e possa recuperare tanti adulti a un passatempo bello appassionante ma anche utile per costruire una cittadinanza sempre più consapevole Regione Toscana il consiglio regionale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti